Cantieri dell'SFMR fermi nel comune di Venezia e imprenditori in protesta a fianco dei loro operai sotto la sede di Veneto Strade, in polemica con i ritardi dei pagamenti da parte della Regione Veneto che a loro dire rendono impossibile continuare i lavori per le due stazioni ferroviarie mestrine di Gazzara e Olimpia. Abbiamo uno scaduto per lavori eseguiti di 400.000 che non viene onorato e non ci vengono date le sufficienti garanzie affinché ci sia una regolarità dei pagamenti per i lavori che devono essere svolti. Il Consorzio Costruttiva, vincitore dell'Appalto, si era impegnato a completare i lavori con una seconda azienda dopo il fallimento della prima incaricata. A patto però racconta il Presidente Davis Rizzo che la Regione garantisse una regolarità dei pagamenti. Va detto che noi finora abbiamo sostenuto in maniera del tutto autonoma tutti quelli che sono stati i costi di riaccantieramento, di pagamento dei suoi appaltatori. Quindi abbiamo anticipato somme che posso garantire sono anche ingenti. È un anno che non ci pagano, è evidente che la situazione diventa insostenibile. L'ultimo incontro con l'assessore ai trasporti Elisa De Berti risale all'11 maggio. L'amministrazione regionale ha espresso la volontà di risolvere la situazione ma da allora nulla si è mosso. La vicenda ha importanti ripercussioni sull'intera filiera di aziende coinvolte, rinunciano i manifestanti, comprese tutte le imprese fornitrici. Per non parlare del disagio dei cittadini del quartiere condannati a veder protrarsi i cantieri di un'opera che doveva già essere terminata. Nonostante tutto questo tempo non riceviamo nessun tipo di garanzia da parte della regione su un pronto sblocco di queste somme, per cui per noi è diventato sostanzialmente insostenibile questo tipo di situazione.